Il corpo umano, un sistema complesso e affascinante. Una straordinaria rete di organi sensoriali e nervi, che ci permette di imparare e di adattarci, di vivere comodamente nel mondo moderno, con i suoi flussi di informazione. Ogni giorno, durante la routine quotidiana, come parte del nostro ambiente che è sempre più esigente. Al lavoro. O dopo. Noi di BMW ci siamo chiesti che cosa avremmo potuto imparare da questo sistema di nervi essensi e come le nostre auto avrebbero potuto interagire in maniera intelligente con l'ambiente circostante, soddisfare le richieste dei passeggeri in modo semplice e naturale e offrire loro un'esperienza di guida mai avuta prima d'ora. Questo è il motivo per cui stiamo lavorando alla nostra visione, per avere l'automobile più connessa di tutti i tempi nel modo più intelligente. Un essere umano può ascoltare e vedere, sentire il caldo e il freddo e noi stiamo utilizzando gli stessi canali sensoriali per questa concept car, un'estensione virtuale degli organi sensoriali del corpo umano. I veicoli raccolgono informazioni dall'ambiente attraverso videocamere, sensori e antenne. Assorbono le informazioni dalla strada. Le trasmettono attraverso il cofano con segnali luminosi fino ai passeggeri all'interno. Il veicolo offre al conducente le informazioni al momento giusto e nella giusta quantità. Vision Connected Drive in realtà è una simbiosi con l'ambiente circostante. Stiamo spiegando o mostrando qualcosa che in realtà è invisibile, l'Internet Connectivity e lo stiamo facendo in tre colori, rosso per la sicurezza, blu per l'infotainment e verde per il comfort. Per la sicurezza abbiamo usato il colore rosso che sta per allarme. Il veicolo è in relazione con altri veicoli sulla strada e quando viene rilevata una situazione di pericolo, il guidatore riceve una segnalazione o semplicemente il veicolo si ferma da solo. Il blu è un colore che si adatta molto bene a BMW. Con infotainment il conducente è in contatto con l'ambiente esterno e il web, riceve informazioni sulla città che sta per raggiungere e consigli su ristoranti o musei da visitare. Il verde rappresenta il comfort e la praticità e il nostro scopo è semplificare la vita delle persone nei confronti della connettività, così che i loro navigatori satellitari possano essere immediatamente sincronizzati. In futuro BMW avrà sempre più un'immagine dinamica ed elegante e questo è ciò che dimostra questa concept car. L'Internet Connectivity diventerà parte integrante dell'ergonomia del veicolo, i display e i monitor saranno incorporati e la configurazione del telefono cellulare diventerà molto più semplice. Connected Drive è quasi un metaconcetto, è un'idea, una filosofia. Per me la sfida più grande è stata dare forma attraverso il design a un concetto intangibile, come Connected Drive. Virtualmente dare al Connected Drive un look accessibile a tutti. La forma è fluida, come l'acqua che scorre intorno alle pietre. Si percepisce la simbiosi tra design di esterni e interni, le geometrie, i materiali, l'interfaccia. In sostanza, è un unico oggetto. Abbiamo ottimizzato il tessuto per controllare gli schermi degli interni con i gesti. Ho dovuto capire che il design degli esterni è parte di una concezione più ampia che include il veicolo, la presentazione a un'esposizione automobilistica, un avatar sul muro, gli esterni e gli interni, in connessione con questa storia virtuale. Per me è un momento storico. L'apice, dopo mesi di preparazione, ha un evento molto importante, una pietra migliare per il BMW Connected Drive. È davvero un momento unico, perché è la prima volta che mostriamo il futuro di una concept car. Il Salone dell'Auto di Ginevra, dieci minuti dopo la conferenza stampa, è il climax per i nostri progetti. Tutti sono molto emozionati. È davvero un grande momento. La sfida più grande di questo progetto era di creare interazione tra l'auto e questo grande evento. È stato qualcosa di totalmente innovativo, quello che abbiamo fatto quest'anno. La BMW Vision Connected Drive è così speciale perché cancella i confini tra il mondo virtuale e il mondo reale. In poche parole, l'automobile più intelligente del mondo.